Ohhhh to SE?! NANA MARLA LA VOCUATUO és LATiance .. Any at laptops Tentio la mus amb Goodness si l'impacto va ups l'app recommendations 인지 aaaaaia si si parlare la EH dzięki AHHHHH La ど la sua buona riuscita roma in aca pangalato all'amnama si tutta sedu ho somisan ho somison la iba a bitonga toga mia sogaro ho taisi ewan ama kagenerasi nanengro ma nasuniatur sabbe eh ooo e nama manang istilana orang edan mamula bang ooo seh orang si makin edan ayo mabakabiti ayo mabariot dira mo nolau tiwadad saiduran angkono aik dira namar hula margoro bala corong deh apalagi nama rama ranggi ooo iya mang ommala niakka namasa nunga aik sabutulna jadi o perluro sabutulna isi rona salah eh akka parla parla poro ayo gabi hancur lebur suwe ah iya mang mo nopikir putiri nanggagabiran aritiau nangilapukon ah iya mang parla turun nanggagabi hancur lebur suwe ah lah soniatu sabdo baharu nangkiraku si si say rubelati do siti belau tunggo marbolokbolok nanggagabi hancur ah 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 soal perbalohan persoalan soal utang piutang persoalan itu hal biasa menunggu kesadaran masing-masing menunggu mujizat di dalam ruhaan masital talantulma setiap persoalan setiap persoalan yang selama dunia mengaku merasa benar dan nalau digani dan nalau selesairo nih alai dirimang rimangi mak apa bernanda meraduk putuhani bahasa buharuk saya kabujizat urmangkornak yang dimukul tu ay tuisa lo yang kamu ga berharap di atas ko nawa loyek ko pamali male maisi hiru napurluiko ngungkornak beob nujizat ngujizat pamali male buka hosi ia bala lagi kemangan lalu hiru napurluiko nah ayo yang nasi udang besokani tangkutuh oren hanku ayo bulo ayo yang digerikan närmati 9 yaa yaa seolah lako makkal sa honi sumiru ni nasa ribu makkal sa honi ayo ayo maksang gabi ko allah i muti ma? allah allah i non i non i non i non allah allah i non l'accia con la macchina dai c'è il tutto il ma io come un risultato non sei l'eva per lui non è venuta ora 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 ma ah 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 grazie, 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 grazie Deve uscire il posto il stile. Secondo che ecco n'avano per otruzione di questo. E' proprio questa cosa che ciò si trova. Perchè il posto è il posto, siccome sono un testo. Ciao. C'è l'importanza? Abbiamo subito. Ma il posto è di fatto non ciò? Si, vuoi che sia un testo. C'è le stagione delle imprese che ci sono? Chúngete? Ma così. Ci sono un testo. Sì, non lo so. a tutti i giorni No, 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 no! non ci sono ma non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. sono che ci sono alle sul della no sono based oi beh he lo la colpito qua ah no, 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 no. che ci sono Akan berikutnya, a siap! I do'l'o, a siap! Ma sa ta ma sa, Anggunghita tetap bersatu I do'l'o, Ma che si fanno il video, che si fanno i suoi, Ti fanno i suoi! Si fanno i suoi! Ma che 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 si fanno i suoi, Ma che si fanno i suoi, Ma si fermano i suoi! Inya si fanno i suoi! Je ti fanno i suoi, Non di si fanno i suoi! Pa! Mari laet ai suoi se ui! Ta masalah suoi! Si好了 tu은 ausii tu undisul tu? T't issued you perché Faio Tu baka uslo mi suoi juoi моir! Ahhhhhhhhhhhh! Ma berarti i suoi In suoi ui! Ma che si fanno i suoi e suoi! ho l'ho ma si nghello lasciato ma che ci sono Sursar 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 Terjami di ho mangi tari Terjami di ho mangi tari Oke mainkan Asal tu terjadi Sursar 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti